Una buona giornata cari amici, buon sabato, questo è un sabato in cui si apre un turno di Serie A molto delicato, molto interessante perché ci sono grandi partite, ci sono partite importantissime come lo scontro salvezza fra il Genoa e il Lecce, però Roma-Inter, Juventus-Lazio lunedì, anche in questo sabato abbiamo tre anticipi decisamente succosi e io stasera sarò a San Siro a commentare Milan-Bologna, ho l'impressione che mi divertirò e che ci divertiremo, però la domanda con cui si apre questa giornata di Serie A, la quintultima del nostro campionato, è quella che appunto ho messo nel titolo del video perché l'andamento recente del campionato con le difficoltà della Juve, la crisi della Lazio e gli ultimi due successi dell'Inter impongono questo tipo di dubbio, diciamo. L'Inter può davvero vincere questo scudetto? La risposta è sì semplicemente per il fatto che nel calcio tutto è sempre possibile finché non interviene la scienza, ovvero l'aritmetica, a dire qualcosa di diverso, non c'è mai nulla di scritto a priori, non c'è mai una partita che non possa avere qualsiasi tipo di epilogo, anche se le forze sono squilibrate, anche se la situazione può presentare un quadro completamente opposto, però questo è il punto di partenza. Poi un'analisi lucida e approfondita, un'analisi ragionata, suggerisce che l'Inter riguardo alla possibile conquista di questo tricolore abbia più utopie che non speranze, perché comunque la classifica è piuttosto eloquente, ci sono sei punti di differenza fra la Juventus e la squadra di Conte, che poi sono sei punti e mezzo, perché la Juve ha anche il favore degli scontri diretti, la Juve ha battuto l'Inter sia all'andata che al ritorno in modo piuttosto netto in entrambi i casi, per cui oltre alla dimostrazione c'è anche il bonus del mezzo punto in più che fa la differenza. Di conseguenza il ragionamento diciamo è piuttosto semplice, l'Inter per vincere questo campionato deve sicuramente vincere tutte e cinque le partite che le mancano alla conclusione e sarebbero cinque vittorie consecutive, anzi sarebbero sette vittorie consecutive, visto che i nerazzurri vengono dal doppio successo sul Torino e sulla Spal. Bene, l'Inter sette vittorie consecutive in Serie A non le fa dall'autunno del 2018, quest'anno non le ha mai centrate, è arrivata al massimo a sei nelle prime sei giornate, seguite poi appunto dalla sconfitta in casa nello scontro diretto con la Juventus e da dicembre in poi l'Inter non è mai arrivata a tre, non ha mai centrato un Tris, al massimo due vittorie consecutive, poi è sempre subentrato un pareggio o una sconfitta a fermare questa serie, per cui sarebbe una serie in qualche modo storica. Oltretutto se l'Inter vincesse tutte le sue ultime cinque partite per essere campioni d'Italia dovrebbe vedere la Juventus perderne due sicuramente e non vincerne almeno un'altra. Scenario molto complicato da prevedere anche perché oltre a questi numeri ci si mette il calendario e l'analisi del calendario non è sicuramente favorevole ad Antonio Conte, visto che l'Inter appunto dovrebbe fare cinque vittorie consecutive affrontando la Roma, il Genoa, la Fiorentina, il Napoli e l'Atalanta, tutte partite diciamo molto esigenti, forse quella con una Fiorentina che sarà abbastanza tranquilla è la più morbida, ma anche lo stesso Genoa che si giocherà la salvezza, sarà un avversario duro così come lo saranno Napoli e Atalanta alle ultime due giornate, squadre che avranno già probabilmente fissato i loro obiettivi, però rimangono squadre d'orgoglio, squadre forti, squadre difficili da affrontare. Mentre il calendario della Juventus propone sì due partite insidiose, quella con la Lazio di lunedì e quella con la Roma all'ultima giornata, Roma che probabilmente se all'ultima si trovasse nella condizione di poter fare uno sgambetto doloroso ai bianconeri ci metterebbe molto impegno, molto stimolo, però come detto la Juventus dovrebbe perderne due e non vincerne almeno un'altra e le altre tre sono contro Udinese, Cagliari e Sampdoria, fondamentalmente delle partite quantomeno abbordabili, visto che l'Udinese e la Sampdoria hanno il passo per poter essere tranquille nel momento in cui affronteranno la Juventus e il Cagliari tranquillo lo è già. Per cui anche solo ragionando su questo tipo di scenario vedete che il pensiero che l'Inter possa davvero vincere questo scudetto è un pensiero ad oggi abbastanza lontano dalla razionalità. Poi il discorso che si può fare riguarda lo stato di forma delle due squadre. Indubbiamente la Juventus ha mostrato delle difficoltà e delle crepe che non si erano mai viste in questa stagione in cui la Juventus non è mai stata piena, non è mai stata completa, non è mai stata del tutto convincente, però così poco convincente non lo era stata mai, infatti non aveva mai fatto tre partite in questa Serie A senza ottenere il successo. La Juventus ha perso col Milan, poi ha pareggiato in modo abbastanza stentato sia con l'Atalanta che con il Sassuolo, ha preso nove gol nelle ultime tre gare, per cui in questo momento garanzie vere e proprie la Juve non ne dà. Però io credo che il match di lunedì con la Lazio ritroverà una Juve focalizzata, concentrata, affamata nelle sue individualità ma anche nella sua espressione corale, oltretutto contro una Lazio che è stata schiacciata dalla ripresa del campionato. La Lazio è la squadra che ha più rimpianti di tutti, forse anche più dell'Inter, perché come vi ho detto prima del lockdown la Lazio per me aveva le carte in regola per arrivare fino in fondo, vincere lo scudetto sarebbe stata un'impresa straordinaria, però le carte in regola per arrivare fino alla fine ce li aveva questa squadra, che si esprimeva con grandissima qualità, che aveva un pieno infinito di autostima e che aveva anche la possibilità rispetto alle altre di focalizzarsi esclusivamente sul campionato, quindi di preparare settimana per settimana la propria partita. Un vantaggio che si è completamente cancellato con le dinamiche che caratterizzano adesso il nostro campionato. Però vedremo, per avere davvero un briciolo di speranza l'Inter deve andare a vincere all'Olimpico domenica sera e poi deve sperare che la Juventus perda con la Lazio, però a quel punto potrebbe rilanciarsi anche la Lazio, in ogni caso. Il discorso che vi voglio fare è sul momento attuale dell'Inter, che appunto viene da due vittorie consecutive, può trovare la terza, cosa che non le capita, come vi dicevo dal primo di dicembre, dal successo contro la Spal, e che Inter è in questo momento. È un Inter molto diversa rispetto a quella che ha fatto la striscia di inizio stagione. È diversa in tante dinamiche, sono successe tante cose, cose positive, perché comunque bisogna partire sempre da una base di ragionamento. L'Inter di quest'anno, secondo me, ma anche secondo i numeri, è stata migliore dell'Inter dell'anno scorso, a 10 punti in più dopo 33 giornate, in un campionato che oltretutto, pur con le sue particolarità, mi ha dato l'impressione di essere cresciuto come livello globale, come livello medio, per cui 10 punti in più sono un fattore, sono un dato che parla per il lavoro di Antonio Conte. Però dopo questa partenza robotante, dopo un girone di andata fondamentalmente, in cui l'Inter è andata anche al di là del proprio valore, ha spinto, ha spinto fortissimo, ha spinto tantissimo, ha spinto forse troppo, però non c'è l'alternativa per potersi costruire una stagione con questo tipo di pensieri. È arrivata invece una flessione, sono emersi dei problemi, ci sono stati anche un po' di contrasti verbali, Antonio Conte è Antonio Conte, uno che mette la testa nel carro armato, ti porta dentro al blindato con lui, e poi è un generale di quei vecchi generali da trincea, estremamente esigente, duro, non morbido nei modi, e quindi questo qualche riflesso, qualche riverbero, anche sulla squadra, non solo nei suoi rapporti con la società, lo ha avuto. Però sul campo abbiamo una squadra che è stata anche chiamata ad evolversi, da quelle che sono state le indicazioni date anche pubblicamente da Antonio Conte nella prima parte di stagione, e soprattutto da quelli che sono stati gli interventi sul mercato della società, perché la società ha cercato sempre di buttare dentro benzina, di aumentare i valori di questa squadra, testimonianza chiara, il mercato di gennaio con l'acquisto di Eriksen, ma non solo, anche con l'arrivo di due laterali come Moses e Young per aumentare il livello qualitativo degli esterni nel 3-5-2 o 3-4-1-2 di Antonio Conte, per cui la società ha sempre risposto agli stimoli dati dall'allenatore, e quindi abbiamo un Inter diversa, un Inter che oggi ha delle cose positive e delle cose nuove, perché sicuramente per Antonio Conte il messaggio migliore viene dato dalle alternative, e in primis da Alexis Sanchez. Oggi il giocatore principale dell'Inter è il Cileno, un giocatore che è terribilmente mancato nella prima parte di stagione per gli infortuni. L'Inter con Alexis Sanchez sano per tutto l'anno avrebbe dei punti in più, indubbiamente, perché è un giocatore di gerarchia, è un giocatore che viene da anni problematici, però lo vediamo se sta bene, se è coinvolto, è un giocatore che ti fa la differenza. Non sono così sicuro della possibilità di schierarlo stabilmente come trequartista più due punte, perché gli equilibri diventerebbero un po' difficili da gestire, però è uno che in questo momento può stare a tutto campo. E la presenza di Alexis Sanchez, oltre che il contributo dei laterali, perché i laterali sono fondamentali nel gioco dell'Inter e nelle ultime partite hanno portato riscontri concreti, perché Young ha segnato più di una volta, Biraghi ha segnato più di una volta, Candreva, sia da titolare che subentrando, ha sempre portato un sostegno concreto alla classifica dell'Inter in termini di gol e di assist. Quindi Sanchez, la crescita di queste alternative. Ci metterei anche la figura di Gagliardini, che ha portato qualche delizia, i gol contro il Brescia-Laspal e anche qualche croce, gli errori contro il Bologna, contro il Sassuolo in partite che sono costate punti e sono costate tanto all'Inter quest'anno. Però, insomma, Gagliardini ha risposto presente, adesso rientrerà Barella ed è un'altra ottima notizia per l'Inter, perché Barella è un giocatore basilare, è un giocatore che ti alza i livelli del centrocampo e permette appunto di avere alternative in più. Le alternative più Alexis Sanchez hanno permesso di sopperire a quelle che invece sono le mancanze, le mancanze anche lampanti dell'Inter in questo momento. E la prima riguarda proprio Eriksen. Eriksen il giocatore che doveva cambiare il volto, doveva migliorare la qualità, migliorare il gioco della squadra, invece fra un po' di incomprensioni tattiche con Conte, no, incomprensioni non è il termine giusto, un lavoro complicato per inserirlo veramente nel cuore della squadra e per permettergli di essere il giocatore che è, perché il valore di Eriksen è indiscutibile, anche nel calcio italiano, certo, non ha avuto condizioni favorevoli, perché è arrivato in una squadra che aveva un gioco molto stabilizzato, un gioco diretto, un gioco che non prevedeva una figura come la sua, per cui già lì ci sono da toccare meccanismi, cose radicate attraverso tanto lavoro, e già quello non era facile. Metteteci in mezzo i due mesi di serrata totale e poi la ripresa attraverso allenamenti particolari, non naturali, non approfonditi, ci sta questa difficoltà. Poi è anche lui che deve aiutarsi, perché Conte dopo la partita con la spalla, una partita in cui Eriksen ha dispensato della classe, comunque ha sottolineato il fatto che non deve essere timido, deve essere protagonista, e questa è una cosa che il calciatore deve trovare dentro se stesso e deve tradurre sul campo, è assolutamente vero questo concetto, per cui l'inserimento di Eriksen per provare ad alzare l'asticella, cambiare veramente il volto dell'Inter e provare a fare qualcosa che non è mai stato fatto in questa stagione, ovvero le sette vittorie consecutive che sono basilari per poter sperare davvero in questo scudetto, e poi c'è il discorso che riguarda la coppia d'attacco. La Lula, Lukaku, Lautaro Martinez, non vanno in gol in tandem dal 3-1 a Napoli del 6 gennaio, ovvero non hanno mai segnato insieme nella stessa partita, nelle ultime 15 giornate di Serie A, quando invece nelle prime 18 lo avevano fatto 5 volte. Si è un po' rotto, comunque si è depotenziato quello che è stato chiaramente il motore dell'Inter nel girone d'andata, perché abbiamo sempre visto questa squadra avere solidità, avere delle tipologie di gioco piuttosto chiare, il coinvolgimento dei laterali con il cambio di campo, o la palla diretta per le punte, e le punte con la loro continuità realizzativa e anche con la loro perfetta integrazione hanno trascinato l'Inter ad avere, come vi dicevo, dei risultati che sono andati anche al di là del valore reale di questa squadra e aggiungerei anche del momento di progettualità, perché è vero che D'Antonio Conte parla la sua storia, ti aspetti sempre il botto fin dall'inizio. Però in questo caso c'erano dinamiche un po' diverse, c'era un lavoro forse anche più ampio da fare, quindi non è che si possa sempre pretendere che un allenatore arrivi e vinca al primo anno. Poi delle responsabilità ci sono, e questo è fuori di dubbio, ma penso che le ammetta anche lui senza problemi, però io invito sempre a considerare la situazione in maniera approfondita a 360 gradi e magari con qualche punto di riflessione in più, piuttosto che andare di pancia. Quindi questo mi sembra al momento lo scenario dell'Inter, una squadra che ha indubbiamente una chance, perché una chance c'è, c'è sempre e c'è a maggior ragione in questo momento. Ripeto, se l'Inter dovesse vincere con la Roma domani sera e la Juventus dovesse perdere con la Lazio lunedì sera, a quel punto sono tre punti, tre punti e mezzo in quattro partite e bisogna crederci per forza di cose, perché altrimenti non si farebbe questo mestiere né non si amerebbe questo sport. Però, visti i numeri globali della stagione, visto il calendario che vi ho presentato, visto comunque che una flessione della Juventus ci può stare, ma un crollo fragoroso mi sembra molto difficile da prevedere, vi dico che lo scudetto per me rimane almeno all'80%, per non dire al 90%, nelle disponibilità della squadra di Sarri. Poi, se quella di Conte dovesse riuscire veramente a ribaltare questa situazione, allora avremmo un finale di campionato epocale, indimenticabile e in qualche modo allineato alla stranezza, alla particolarità di questa stagione. Lo vedremo, quello che succederà, ve l'ho detto, lo vedremo in questo turno molto denso e molto delicato, perché già oggi c'è il match fra Verona e Atalanta, che è un match che dichiara di essere non solo uno spettacolo, ma un'altra lezione calcistica, come lo è stata la partita di andata, vinta dall'Atalanta 3-2 all'ultimo momento, con un gol confezionato addirittura dai tre difensori centrali. Cagliari-Sassuolo è l'occasione per divertirsi, fra una squadra in splendida forma, il Sassuolo anche se con qualche assenza, mancherà Berardi fra gli altri, e un'altra che ha voglia di divertirsi, visto che lo ha fatto all'inizio e poi non sono stati molti i momenti di grande euforia per i Sardi, però è potenzialmente una partita aperta. Stasera Milan-Bologna è partita vera, con anche tanti incroci, Mijailovic, Ibrahimovic, Donnarumma, lo stesso Pioli, che è comunque una figura assoluta di questo momento. Poi domani abbiamo, fra le altre partite, appunto il confronto caldissimo fra Genoa e Lecce, che ci dirà cosa sarà la corsa salvezza nelle ultime quattro giornate. Abbiamo questo pesante Roma-Inter, lunedì abbiamo Juventus Lazio, insomma un weekend lungo in cui ci divertiremo parecchio e ne parleremo costantemente qui sul nostro canale, per cui vi aspetto prestissimo, vi invito sempre a mandarmi le vostre riflessioni, i vostri commenti e ci rivediamo molto presto qui, nella nostra community, sul nostro canale.